Saludato Gesù Cristo, sempre saludato, vogliamo oggi fare memoria di questa grandissima festa che c'è dinanzi la festa di tutti i Santi. La celebrazione equeristica della solidà di tutti i Santi si apre con esortazione Rallegriamoci tutti nel Signore. Quindi la liturgia equeristica della celebrazione di Santa Messa ci invita a condividere la gioia celeste dei Santi e a saporarne anche la gioia. I Santi non sono una esigua casta di eletti ma una folla senza numero verso la quale la liturgia esorta oggi a levare lo sguardo. In tale moltitudine non vi sono soltanto Santi ufficialmente riconosciuti, canonizzati, mai battezzati in ogni epoca e nazione che hanno cercato di compiere con amore e fedeltà la volontà di Dio. Per questo il detto va sempre bene, volontà di Dio paradiso mio. La festa di tutti i Santi quindi è una delle più care a noi cristiani, essa si diffuse nell'Europa latina nel secolo VIII e nel secolo IX si iniziò a separare anche a Roma dove appunto questa solidità era chiamata Pasqua di ogni Santi. Occorreva infatti far festa a Cristo vittorioso e risorto nella storia dei suoi Santi. Quindi possiamo dire che i Santi non sono altro che un prolungamento della vita di Cristo, una nuova incarnazione del Cristo nelle anime, fino a poter dire appunto questi Santi non sono più io che vivo a Cristo, Gesù vive in me. Questo Cristo si è di nuovo, nuovamente glorificato nei suoi Santi, nei suoi eletti. Quindi la solennità di tutti i Santi è la nostra festa, non perché siamo buoni ma perché la santità di Dio ha toccato la nostra vita. I Santi non sono figure diciamo perfette, certamente hanno vissuto una virtù, le virtù eroiche, fino all'eroismo, ma comunque persone attraverso la quale Dio è passato anche attraverso le loro doverezze, cadute, miserie. Pensiamo a Sant'Agostino, Santa Maria Maddalena, San Camino di Lellis o altri che hanno avuto un percorso di cambiamento, di conversione. San Paolo, lo stesso Paolo, San Paolo che si converte. Quindi la festa di tutti i Santi è la festa del nostro destino, possiamo dire così, la festa della nostra chiamata. Da una parte dobbiamo, siamo chiamati a godare l'eternità, la vita eterna, il Santo Paradiso. L'altra parte siamo in cammino e quindi abbiamo anche noi la vocazione, la chiamata alla santità. È una bella festa in cui appunto celebriamo la fedeltà di Dio nei confronti degli uomini e quella degli uomini verso Dio. Da questo felice connubio nasce e sgorga la santità. Quindi Dio è sempre fedele. Ma allora quando l'uomo inizia a essere sempre fedele a Dio, allora nasce la storia dei Santi. I Santi quindi contemplano il volto di Dio e gioiscono a pieno di questa visione. Quindi la Chiesa invita a elevare in alto lo sguardo fino a raggiungere il punto in cui si intravede la Gerusalemme celeste, dove appunto l'assemblea dei nostri fratelli glorifica in eterno il Signore, come leggiamo appunto nel prefazzo della Santa Messa. Quindi tutta la storia della Chiesa è segnata da questi uomini, donne, che con la loro fede, con la loro carità, con la loro vita, sono stati dei fari di luce per tante generazioni e lo sono ancora per noi. Chiediamo la loro intercessione nella nostra vita affinché i Santi manifestino anche noi la loro presenza, potente intercessione presso Dio e affinché possiamo anche noi con San Paolo dire, vivere, non sono più io che vivo ma Cristo vive in me. Quindi per concludere la santità, la solidità di tutti i Santi apre uno spiraglio sulla città del cielo, la patria comune verso cui siamo incamminati e che tanti nostri fratelli hanno già raggiunto, la casa del Padre dove si celebra in eterno la festa di Dio con i Suoi Santi. Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, dice San Paolo. Quindi conseguiamo anche noi questa meta, camminiamo verso di essa, cerchiamo sempre più di vivere in conformità alla volontà di Dio nel nostro Battesimo, Santi Immacolate e Cospetto di Dio nella carità. Così sia.